E magari chiedo, siamo in conclusione e prima di dare la parola a Cristiano magari per due parole finali, semplicemente ringraziare tutti voi per essere stati qui con noi fino alla fine, nel momento di punto eravamo qua a Saturi su Zoom con i 100 partecipanti più una ventina circa che ci seguiva dalla diretta Facebook, quindi un incontro davvero molto molto partecipato. E a Cristiano e tutto il PD di Pregnana milanese credo che vada il nostro ringraziamento per questa occasione di ascolto, di confronto e di dialogo. A te la parola Cristiano. Grazie soprattutto a te Andrea che hai moderato la serata e che hai dato la tua disponibilità a moderare questa serata. Grazie anche a Carmine per averci dato la disponibilità a parlare di un tema importantissimo e che nelle prossime settimane sarà un tema bello caldo. Ringrazio ancora Cottarelli che anche se è stato presente soltanto per un'ora ci ha dato molte delucidazioni a riguardo e ci ha un po' chiarito la situazione a riguardo che in ultimi giorni era limitata un po' nebulosa ma adesso magari con l'intervento di Cottarelli abbiamo maggiore... ma idee più chiare per... riguardo alla Next Generation EU. Ringrazio inoltre tutti i partecipanti. Mi scuso con quelli di Facebook che magari hanno avuto il video in diretta un po' sgranato con qualche blocco dovuta la connessione. Sono le prime volte che proviamo questa diretta su Facebook e quindi grazie a tutti e naturalmente ringrazio anche il direttivo che mi ha permesso di organizzare questa serata e vi auguro una buona serata e alla prossima iniziativa.